Ecco un'altra delle falsità di Fatto 100, la serie dei punti che il buon Rinaldo Melucci dice di aver fatto, realizzato per Taranto. Nuovo stadio comunale. Mai una chiacchiera poteva essere così grossa, perché si tratta soltanto di un disegno presentato dalla Gabetti che tu stai spacciando per un progetto, come se fosse un progetto della tua amministrazione. È solamente un disegno, un semplice disegno della Gabetti, così come qualsiasi altra società che si occupa di progettazione di stadi o comunque di altre opere di una certa rilevanza potrebbe fare. Potrei indicare io altre dieci società che potrebbero a loro volta fare un disegno su un eventuale nuovo stadio. Tu hai voluto approfittare, caro Rinaldo, e al punto 14 hai spacciato il nuovo stadio comunale. Così i cittadini, i tifosi rosso-blu, devono abboccare e devono dire guarda il sindaco Melucci ci sta dando, l'ex sindaco Melucci, l'aspirante nuovo sindaco Melucci ci sta dando lo stadio. No, è un semplice progetto della Gabetti, anzi un disegno, neanche un progetto, un disegno della Gabetti, come lo ripeto potrebbe fare chiunque. Tu l'hai già inserito nei punti del fatto fatto cosa e l'hai inserito prima ancora che la Gabetti lo presentasse perché la Gabetti ha presentato questo disegno tre giorni fa e tu invece avevi già fatto stampare forse 15-20 giorni prima nel tuo fatto cento questo nuovo stadio comunale. Questo, caro Rinaldo, mi dispiace se ti ho importunato di notte, ma andava detto, andava detto perché ho avuto la fortuna di avere da vicino la vela che gira per la città e te lo dovevo dire, cari tifosi rosso-blu, aprite gli occhi, non c'è nessun nuovo stadio comunale progettato, nulla, 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 solo il fumo in campagna elettorale che il signor Melucci sta scatenando a 10-12 giorni dal voto. Questa si chiama scorrettezza e inganno nei confronti dei cittadini, aprite gli occhi Tarantini, questo non è un progetto dell'amministrazione Melucci, della ex amministrazione Melucci, ma si tratta soltanto, solo e unicamente di una idea progettuale, di un disegno della Gabetti, di una società del settore, nulla di più, non è stato fatto nulla. Cosa hai fatto al punto 14? Basta con gli inganni.